Monica Gujarro Revisore Buonasera a tutti. Io sono qui per raccontarvi un po' della mia vita, perché da qualche anno questa parte trascorre scandita da voli di aquile, falconi, in dimostrazioni di volo nelle rievocazioni medievali e nel bear control. Quella della falconeria è una strada in salita, è una strada ricca di sacrifici ma anche di soddisfazioni e di tante tante lezioni da imparare. La prima che ho preso io è che c'è una condizione senza la quale nulla è possibile con un rapace ed è la fiducia, la sua fiducia nei miei confronti. Se un falco non si fida di me, non è assolutamente disposto a collaborare con me. Il primo rapace che ho destrato è un'aquila, un'aquila delle steppe maschio, si chiama Huracan, ed è arrivato proprio poco dopo che io avevo cominciato questo nuovo percorso di vita. Io non ricordo la prima volta che ho chiamato Huracan al pugno perché per tutto il suo primo anno di vita io l'ho tenuto sempre sul mio pugno, sono stata più con lui che con qualunque altra persona. Però non dimenticherò mai, mai nella vita il primo giorno del suo volo libero. Era un pulcino, si può dire, aveva tre mesi, quattro mesi, era pennato, pronto, ma ancora mi chiamava come se fosse il suo genitore. Pigolava ogni volta che mi vedeva. E quando ho visto che era pronto, che era in grado di spiccare il volo, l'ho portato a volare su una collina. E quel giorno c'era il vento forte che spettinava a me i capelli e a lui le penne, ed è partito dal mio pugno e si è poggiato a terra. Ha scrutato per alcuni istanti il paesaggio davanti a sé e poi ha aperto le ali e in quel momento lì il vento lo ha reclamato e lui era alto sopra la mia testa che continuava a pigolare, a chiamarmi, sembrava che fosse quasi in bilico nell'aria. Poi io l'ho incitata ad andare, lui ha preso a giocare con le correnti e è stato un momento unico e davvero un'emozione grandissima. Quando poi è stato il momento di richiamarlo al pugno, io ho visto questa sagoma minuscola nel cielo diventare sempre più grande, sempre più grande, sempre più vicina e alla fine con qualche colpo d'ala era di nuovo sul mio pugno. Questa è stata un'emozione immensa, ma solo una delle tante situazioni che mi hanno fatto decidere che la vita che voglio è la vita del falconiere. Anche andare a caccia all'estero e vedere aquile reali, astori, gufi reali, falconi, al massimo delle loro capacità, vederli fare quello per cui la natura li ha pensati in realtà, perché loro sono predatori, anche quello mi ha convinto. Io non vi posso descrivere a parole la bellezza, la forza di una picchiata di un falco pellegrino che rompe l'aria davanti a voi, però vi posso dire che quando si assiste a una situazione del genere davvero si ha quasi la voglia di urlare per la grandezza di quello che si è visto. L'addestramento di questi rapaci si basa sui loro istinti fondamentalmente. Io faccio da terra quello che un genitore farebbe dal cielo. I falconi in particolare hanno sviluppato il volo al punto da essere esso stesso considerabile un'arma, per cui io, per insegnargli a volare, per insegnargli a tirar fuori tutte le sue capacità di predatore, di volatore, devo simulare una situazione di caccia. E per farlo utilizzo un logoro. Un logoro non è altro che una corda alla cui estremità è legata a una sagoma di cuoio che riproduce un volatile oppure due semplici ali essiccate. Io le faccio roteare in aria e mentre roteano il mio falco è libero in volo. È libero e impara, impara a volare, impara le picchiate, impara a fare le scivolate, impara a fare le virate, impara a prendere le giuste correnti per alzarsi e le giuste correnti per prendere velocità. È un po' una danza. Dico danza perché bisogna prendere il tempo, il tempo del falco, con tutta l'adrenalina che ne deriva, perché credetemi che sono davvero dei missili spreccianti. L'adrenalina, anche quella, anche quella mi ha legato a quest'arte perché i rapaci non sono animali da pet therapy, non sono affettuosi, non cercano assolutamente di compiacerci, non gli interessa il contatto fisico, lo permettono, ma non è una cosa fondamentale per instaurare il rapporto con loro. Sono pure istinto, pure istinto anche dopo anni e anni di nascita e allevamento. E quindi un falconiere cosa fa? Cosa faccio io? Io tendo a non addomare, non a inibire questo istinto selvatico, ma io vado a coltivarlo, vado a tirarlo fuori. La soddisfazione più grande per un falconiere cacciatore è vedere che il suo falco non tanto fa una cattura, ma quanto che è competitivo con un animale selvatico, vuol dire aver reso veramente onore all'animale che si ha. E nel volo libero, ovviamente, dove non c'è una preda, la soddisfazione più grande è vedere la capacità in volo della propria aquila, del proprio falcone. e poi il ritorno al pugno, il ritorno al pugno è un momento magico. Perché? Perché non è scontato, assolutamente. Perché al momento in cui un falco, un'aquila lasciano il pugno, sono liberi, sono liberi e il loro ritorno dipende solo da come noi ci siamo posti nei loro confronti. Bisogna lavorare sul rapporto prima e delle dimostrazioni di volo che io faccio per lavoro. Una cosa che amo è proprio mostrare alle persone non solo il rapporto che si instaura tra falconiere e falco, ma anche proprio cosa sono questi rapaci. Perché spesso e volentieri non c'è una cultura sul mondo naturale dei rapaci. Le persone non sanno spesso cos'è la differenza tra una civetta e un gufo, ad esempio. e c'è la possibilità di spiegarglielo, di farglielo vedere e io sono convinta che il modo migliore per spiegare e per far apprezzare e rispettare queste creature in natura anche sia proprio vederle in volo, sia mostrargli cosa sono in grado di fare, vedere il mio falco che spreccia all'ogoro ignorando tutto quello che è intorno, concentrato solo su di me. È un'emozione per me grandissima, ma che mi piace condividere con gli altri. Perché spesso succede che le persone poi rimangono col naso in su a guardare nel cielo e a domandarsi se vedo una sagoma passare, che cosa fosse, cos'è. Perché? Perché se qualcosa lo si conosce, lo si capisce e se lo si capisce lo si rispetta. E io credo che rispettare questi animali sia un po' come rispettare anche poi la natura. È per questo che amo molto il mio lavoro e anche se l'opinione pubblica è spesso divisa nei confronti della falconeria, io ci tengo a dire che i rapaci che noi addestriamo sono tutti d'allevamento, tutti. E anziché spesso e volentieri allevatori e falconieri hanno collaborato con enti per la reintroduzione in natura di rapaci a rischio di estinzione. Perché? Perché la falconeria è una fonte infinita di conoscenze su questi animali dato che è una tradizione antichissima. Pensate, chiedo scusa, questo gesto che io faccio appartiene ad una tradizione che ha circa 6.000 anni, 6.000 e nel 2016 la falconeria italiana è stata proclamata per materiale dell'umanità per l'UNESCO. È stato un grande riconoscimento. Io, da parte mia, ho avuto la possibilità anche di viaggiare in questi anni e ho conosciuto falconieri da tutto il mondo, da tutto il mondo. Sono stata in Spagna e sono stata in Austria. Ho conosciuto falconieri kazachi. È stata sempre un'esperienza da cui ho imparato tantissimo viaggiare e confrontarmi con dei metodi, con delle tecniche di addestramento diverse, fonti di tradizioni differenti, sempre appartenenti ovviamente al mondo della falconeria. Alcune di queste persone che mi hanno spiegato i loro metodi hanno persino scritto dei libri. Io sarò sempre grata a queste persone, a questi falconieri. Ma non ho conosciuto solo falconieri, io ho conosciuto anche tantissime donne falconiere. Tantissime, perché la falconeria, a differenza di arti antiche che spesso sono state precluse alle donne, non è mai stata unicamente maschile. È pieno di affreschi, arazzi, rappresentazioni antiche, incisioni di donne con il falco, donne dame a cavallo con il falco. E quindi al giorno d'oggi c'è una forte presenza femminile in questo mondo. Sono donne direttrici di centri rapaci, allevatrici, bird controller, cacciatrici. Siamo davvero in tutto il mondo. Vai. Adesso vi presento vi presento Huracan. adesso al cappuccio vi spiego brevemente perché questa non è una situazione per lui consueta. Ci sono luci forti, ci sono telecamere, c'è il tetto molto basso, quindi è una situazione in cui lui potrebbe stressarsi. Il cappuccio è uno strumento utilizzato in falconeria molto comunemente ed è frutto di secoli e secoli di studi proprio sui rapaci. È fatto in modo che le cuciture non creino nessun disturbo al falco, non stringe, rispetta l'ampiezza del becco, non va a toccare gli occhi. È un semplice strumento che gli impedisce di stressarsi, quindi è proprio per la sua salute. Ebbene, con lui sul pugno io vi saluto e vi auguro di volare in alto proprio come fanno le aquile neanche controcorrente perché un'aquila sa che sia un vento forte o che sia una brezza se vuole andare più in alto deve andarci controcorrente e io vi auguro di seguire i vostri sogni anche di cambiare strada se necessario lasciando tutto quello che facevate prima perché nella vita certe volte fare un salto significa spiccare il volo grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti